Nei giornali, nelle nostre riunioni e nel nostro feed di LinkedIn c'è una parola che ricorre sempre più spesso, piattaforma. Che sia un nuovo scandalo a carico di una delle grandi big tech, la nuova strategia di innovazione di un grande gruppo industriale o semplicemente un nuovo servizio digitale, la parola piattaforma si sente e si risente in qualunque settore. Ma che cosa vuol dire veramente piattaforma? Cos'hanno in comune Uber, Amazon, Apple e un qualunque quotidiano? O ancora perché è corretto considerare un'app come Strava, il famoso servizio per fare tracking delle proprie performance sportive, una piattaforma? Questo e molto altro è al centro dell'online certification program Platform Thinking Professional, lanciato da MIP, la Graduate School del Politecnico di Milano. I partecipanti avranno la possibilità di capire cosa sta dietro la facciata più scintillante delle grandi piattaforme digitali, apprezzandone le differenze e soprattutto capendo che cosa fanno queste grandi aziende per creare valore per i propri clienti. Questo però è solo l'inizio. La certificazione si chiama Platform Thinking perché si pone come obiettivo non soltanto quello di capire le piattaforme che ci circondano come utenti, ma anche e soprattutto di pensare l'innovazione tramite le piattaforme. Durante il percorso approfondiremo il processo di Platform Thinking, pensato per aiutare le aziende esistenti a vedere innovazioni che si ispirino al mondo delle piattaforme. Per creare una piattaforma, infatti, non bisogna necessariamente essere né in Silicon Valley né una start-up. I Platform Thinking sanno vedere le opportunità di innovazione abilitate dalle piattaforme anche e forse soprattutto nelle imprese in cui stanno lavorando. Oltre alle sessioni live e alle clip con le quali affronteremo i temi teorici, sentiremo le storie di molte piattaforme direttamente dalla voce dei Platform Thinking che le hanno create. I partecipanti di questo Online Certification Program avranno la possibilità di vivere anche due hackathon in cui applicheremo il processo di Platform Thinking direttamente alla vostra realtà organizzativa oppure, nel caso la proferiate, a quella di uno dei partner del programma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.